Noi siamo a Palena con il nostro Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, a te. Grazie, grazie Jacopo della linea. Siamo qui sul manto erbosso del comunale di Palena. Abbiamo le tribune alle nostre spalle. Qui si allenerà e lavorerà il Pescara da oggi e fino al 2 agosto il ritiro dei biancazzurri neopromossi in Serie A qui proprio a Palena in provincia di Chieti per queste tre settimane davvero importanti per la preparazione del campionato di Serie A. Noi andiamo subito ad ascoltare il portiere della formazione biancazzurra, Vincenzo Fiorillo. Inizia questa nuova stagione. Tu tra l'altro hai rinnovato il contratto. Pescara continua ad avere grande fiducia in Vincenzo Fiorillo. Nonostante l'arrivo di Bizzarri, questo per te comunque è un atto di stima importante? Beh sì, devo dire innanzitutto che sono molto felice di questo rinnovo perché è un segno che la società si aspetta molto da me, si aspetta una crescita costante e la possibilità di lavorare con un portiere come Bizzarri per me è una cosa molto importante. I tifosi si chiedono, è inutile girarci attorno, chi sarà il portiere titolare in Serie A del Pescara? Vincenzo Fiorillo è uno dei diretti interessati, cosa ci può dire? Beh io non lo so, io penso solamente da tre o quattro giorni ad allenarmi a 200 all'ora come ho sempre fatto. Poi non sono discorsi che mi riguardano questi e come ho detto prima sono contento di lavorare, di avere questa possibilità di lavorare con un portiere come Bizzarri perché negli ultimi due anni ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Serie A quindi c'è solo da imparare e siamo felici. Queste le parole dell'estremo difensore del Pescara, Fiorillo che ha rinnovato per due anni il contratto, oltre a lui in porta ci saranno quest'anno per il Pescara Bizzarri, arrivato proprio nel mercato di luglio e anche a resti, vedremo chi sarà il titolare, ma in Casa Bianca Azzura c'è davvero un bel clima, l'abbiamo potuto vedere già questo pomeriggio nel primo allenamento sostenuto dalla squadra, qui agli ordini di Massimodo. Per il momento è tutto, da Palena, Lina che può tornare allo studio, a te Jacopo.